...destegnare ancora di più. Dai, dai, non è una questione di giorni. ...se infatti accederebbero alle sfide di promozione, non è un conflitto facile, ma hanno già affiamente dimostrato di avere le qualità necessarie per potersela giocare contro chiunque. ...è difficile, possono portarla a casa? Bella, 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 bella. ...ma si, ma si, bellissimo questo, ci ha creduto fino in fondo, grande. ...con il cuore, con il cuore. ...sì! ...oh, chi è che c'è il cane? ...maio. ...mecchio che riprende, hanno allungato portandosi sul 2-0. ...vai, Max. ...tu, tu, 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 tu. ...mai. ...vai. ...vabbè, oh. ... ...se niente, siamo andati via felici con un bambino. ...guarda, papà Max. ...e qui possiamo rivedere l'azione di un gol. ...la ripartenza da manuale. ...ma tu, 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 col portiere... ...ma non ho manco un'altra, ...la fisi di potente sulla cuore del terzo solo e non ho portato nulla. ...ma non ho portato nulla. ...che dice? ... ...occhio al pallone distrante. ...attenzione... ...io l'avrei passato. ...ma bello, sì. ...la partita in cassaforte adesso. ...hai fatto proprio bene. ...è, ricordo perché... ...ha proprio... ...ho provato. ...no, ma hai fatto bene, no, è dry. ...ma c'è sì, sicuramente dopo questo. ...è per fortuna entrata più l'area. ...l'aveva passata lì in bucata per conto. ...ho fatto il pugno. ...cross in area. ...no, Artusi. Ha segnato lui? ...ficchiando. ...è tornato Artusi, ragazzi. Artusi è tornato al gol. ...oh, ci abbiamo subito partita promozione? ...vai, vai, vai.